gentili telespettatori buona giornata il governo salvo ancora per un solo voto il bis in commissione sul catasto lega fratelli d'italia e forza italia e ci che sarà cambiamo cambiamo com'è che era altro non mi ricordo più ci tornano all'assalto per abolire la riforma forza italia tenta la trattativa ma draghi chiama da italiani non cedo dice draghi e così da forza italia dicono c'è qui un bel rischio del vietnam per l'esecutivo io lascerei stare il vietnam di questi tempi giornata di ordinaria tensione in italia mentre salvini è in polonia per la pagliacciata in italia si consuma un altro tipo di pagliacciata con tentativi di mediazione falliti perché pagliacciata perché quella sta roba del catasto e non è una roba che è uscita adesso è una roba di novembre dicembre dove questi partiti di governo forza italia e lega avevano detto insomma non ci piace e poi non è successo niente perché si svegliano il 7 8 di marzo sarà perché sono già in campagna elettorale vogliono far rivedere al popolino di centrodestra che loro sono sono con sono con loro e tutti per uno uno per tutti e insomma lo squallore regna sovrano e imperante nel muro contro muro infatti nessuno vuole cedere e beh ci sono le elezioni e chi è che vuole cedere ognuno ha tirato fuori la scatoletta delle bandierine il centrodestra è per il no alla riforma del catasto ma lo sapeva anche a novembre lo dice solo adesso che strano vero e così si ritrovano tutti assieme felicemente il fatto è che giorgia meloni ha sempre detto di no al catasto gli altri due invece arrivano oggi per la propaganda elettorale poi sta a voi alle prossime elezioni dare il ben servito a chi a chi vi ha preso in giro a chi vi dice una cosa ne fa un'altra a chi non interessa niente di voi ma interessa solo la propria portrona delega fiscale può diventare un terreno di scontro nella maggioranza potrebbe provocare una rottura insanabile draghi che sale al colle mattarella che gli dice si va alle elezioni anticipate a giugno beh alla fine il risultato è lo stesso della scorsa settimana il governo si salva per un voto 22 23 pertanto tutti gli attori hanno fatto la stessa identica scelta e poi così 22 a 23 è pertanto la centrodestra che non esiste ma chiamiamolo quell'area politica lì distrutta da salvini che mirava ad abolire la revisione degli estimi già bocciato con gli stessi numeri ma presentato da alternativa c'è ma l'alternativa non c'è a questa gente l'alternativa non c'è con le firme di lega fratelli d'italia ma con la defezione del centrodestra dell'esponente di noi con l'italia lupi lupi è il guastafeste lupi è quello che sta salvando il governo perché per lui la riforma del catastro va fatta o forse o forse lupi come tutti gli altri ha paura di perdere lo stipendio in anticipo un anno prima annaggia lupi noi con l'italia voi con la francia essi con la scandinavia e vabbè noi voi essi io tu egli noi voi essi eccetera eccetera ha votato lupi con l'arresto della maggioranza in dissenso con gli alleati ricordatevelo questo lupi quando ci saranno le elezioni dico ai leader di partito e quando verrà tagliato fuori perché non avrà i voti per entrare in parlamento non fatelo entrare nei vostri partiti per trovargli uno stipendio ricordatevi ricordatevi di questo ricordatevi di lupi noi con l'italia lupi noi con l'italia ma chi è lupi boh il voto è arrivato a tarda sera dopo che in giornata si era tentata prima una trattativa per il capogruppo azzurro paolo barelli e il ministro per i rapporti del parlamento con il parlamento per il parlamento quel che è dinca poi un'altra al massimo livello al telefono tra draghi e il portavoce di berlusconi tagliani l'uomo che sembra ma non è quello che non conta nulla è solo il portavoce di berlusconi ma viene titolato come coordinatore vicepresidente il portavoce di berlusconi quest'ultimo aveva proposto l'ennesima mediazione accantonare l'articolo 6 quello del catasto e cominciare l'esame della delega fiscale dall'articolo 1 come succede per tutte le leggi ci partiamo dal numero 1 poi dopo vediamo al numero 6 ma il premier ha detto le tasse sulla casa non aumenteranno ma il premier ha ragione la sua frase le tasse sulla casa non aumenteranno e non aumenteranno adesso ma aumenteranno nel 2026 quindi lui fa una frase a metà le tasse sulla casa non aumenteranno ma non dice non aumenteranno oggi domani non aumenteranno per tre anni e poi aumenteranno no lui dice le tasse la casa non aumenteranno dice in che senso e non aumenteranno adesso aumenteranno dopo però la seconda fase la seconda parte della frase non l'ha detta e poi dice così non si può andare avanti non posso pensare che forza italia rompa con la lega e lasci tutto lo spazio a salvini e a fratelli d'italia su un tema così sensibile per il nostro elettorato così diventa un vietnam non è che lo stesso draghi vuole l'incidente erano i sospetti degli azzurri di forza italia e beh insomma siamo in campagna elettorale cosa dobbiamo dire adesso vedremo il governo poteva andare sotto poteva anche cadere ma ringraziate lupi noi con l'italia e voi con non si sa chi è bravo lupi bravissimo ma questo è un parlamento fondato sul mutuo del deputato la l'unica l'unica idea del deputato è quello di mantenere lo stipendio perché deve pagare il mutuo la rata della macchina ecco e così di queste scenette ne troveremo fino al prossimo anno grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti sempre su questo canale se no c'è anche l'altro canale tele italia è seconda rete dove trovate video di politica ma non solo grazie a buona giornata ciao ciao ciao